Ah, l'attima d'attesa è giunto, finalmente Pedro il bandito è nelle mie mani. L'avete preso? Sì, e non ci scapperà. Che bravi, avete messo il biglietto? Per l'appunto, e domani mattina all'alba Pedro il bandito sarà fucilato. Complimenti! Su la mano, all'attacco ai miei brodi, a cerichiatano, mi faccio un pezzo. Ah, guarda, mi sta a doppio pezzo. Ora non mi scappi più. Eri qua. Non mi resisti quando mi commessa servizio. Non approfittare! Bandito con rimorio! Ma il colpito basso, bandito con lastro! Buongiorno! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma che è un bandito? Ma che è un bandito? Qui c'è un epilogo? Sono un barbiere di qualità. Ma che è un bandito? Signore, ci menzogna? Non ci menzogna. Comunque che? Morirà imbottito di piume. Non è possibile. Il medico mi ha ordinato il ferro. Vieni con noi. Andiamo. Ma quel malattia conto del Maviva dove si è cacciato? Vieni consegnatelo all'ufficiale di giustizia. Lo seguo da presto. L'ufficiale di giustizia, no. L'ufficiale di giustizia. Giustizia di giustizia. L'ufficiale di giustizia. L'ufficiale di giustizia. ì.